Badante, 54 anni, originario di Milano, ha trovato morto nel suo appartamento in via Cairoli, a Vicenza, a fare la tragica scoperta alla moglie dell'anziano che accudiva. La donna, preoccupata che il 54 anni non fosse ancora arrivato in casa, all'orario stabilito, ha fatto la triste scoperta ed ha avvisato i carabinieri. I militari della sezione radiomobile intervenuti nell'abitazione hanno rivenuto anche 5 bustine contenenti 0,45 grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina e 11 bustine contenenti 1,20 grammo di sostanza stupefacente di tipo cocaina. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. Secondo un primo riscontro, la causa del decesso potrebbe essere attribuibile ad un arresto cardiocircolatorio, le cui cause però sono in corso di accertamento. Al vaglio anche l'eventuale corretto funzionamento dell'impianto termico per escludere che il decesso possa essere conseguenza dell'inalazione di monossido di carbonio.